Il 18 alle 17.30 nuovo appuntamento con gli aperitivi in confartigianato, di cosa si parla questa volta? Questa volta si parla di internazionalizzazione ai mercati esteri, argomento che riteniamo sia fondamentale per la nostra provincia, quindi per i nostri piccoli e micro imprenditori che attraverso questo incontro possono trovare degli spunti per poter andare appunto verso nuovi mercati. La loro dimensione di piccola e micro impresa rappresenta in questi casi qua un ostacolo da superare e quindi ecco che il convegno e l'incontro è finalizzato proprio a dare questo aiuto a questa nostra provincia che è ai primi posti comunque per export.